La sentenza della Corte Costituzionale che boccia le previsioni normative sulle funzioni associate e obbligatorie dei piccoli comuni prevista dal Decreto Legislativo 78 del 2010, Governo Berlusconi, e ribadita dalla normativa successiva fino alla Legge 56, la cosiddetta Legge del Rio, in Sardegna con la Legge Regionale 2 del 2016, viene salutata con soddisfazione dall'Anci Sardegna che con una nota firmata dal Presidente Emiliano Dejana sottolinea come l'obbligatorietà delle funzioni associate e per i comuni con popolazioni inferiori ai 5.000 abitanti rappresentasse un grave vulnus democratico che la Corte Costituzionale ha giustamente cassato. I principi democratici di sussidiarietà e di autonomia non possono sottostare a indimostrati e indimostrabili contenimenti di bilancio e non essere superati da quelli di adeguatezza e differenziazione. L'Anci Sardegna, ricorda Dejana, si è sempre battuta contro questa visione manichea delle istituzioni e contro un'impostazione accettata da parte del Gruppo Dirigente Nazionale e oggi con la presidenza di Antonio De Caro fortunatamente superata all'Anci. Secondo Dejana, le norme cassate dalla consulta miravano solamente alla cancellazione della democrazia nei comuni con popolazioni inferiori ai 5.000 abitanti. Nessun'altra ragione sottostava l'approvazione di un sistema di norme punitivo rispetto alla democrazia locale ed era trasversalmente accettata da tutto l'arco costituzionale sino al 2010 che alle successive elezioni del 2013. Solo la reazione dei sindaci dei comuni più piccoli ha respinto a questo assalto alla democrazia locale che potrebbe ripresentarsi anche in futuro. Per fortuna i comuni e le comunità hanno sviluppato anticorpi formidabili per riconoscere questa tendenza accentratrice e antidemocratica. Adesso spetta al Parlamento, in Sardegna, al Consiglio regionale, a concluso Dejana, sanare questa struttura con l'approvazione di regole semplici che valorizzino l'autonomia e la sussidiarietà.